Parla tanto dei bordi per l'Italia, delle spiagge per l'Italia, stasera con il cielo che abbiamo avuto modo di vedere, di assistere, forse ci siamo veramente nell'Accademia per l'Italia, sono contentissimo di questa luna del cielo, non si è vista troppo splendida nel cielo, ma c'è stata la vostra luce, siete meravigliosi! E' stato bello, fattivoso, ma bello! Questa versione dell'Accademia RaiNight viene di ragazzi, di studenti, di docenti, di una manifestazione artistica bellissima, con tanti giovani, mi rendo vergogno perché alla fine di un percorso didattico si raccolgono i frutti, sono frutti visibili che danno grande luce a questa nostra Accademia davvero un grazie a tutti quelli che hanno dovuto dare il loro contributo e la dimostrazione di un'Accademia che viva ed è soprattutto in grande fermento artistico. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.